Viviamo in costante relazione con l'ambiente circostante, con persone, con situazioni e molto di quello che accade non dipende realmente dalla nostra volontà, dal nostro potere decisionale, cosa che a volte può far sentire piccoli, impotenti, inadatti, in balia degli eventi in un qualche modo. Non facciamo in tempo ad abituarci a qualcosa che questa cambia in una realtà che esisteva da prima di noi e che continuerà a esistere anche dopo di noi. Come possiamo quindi sentirci protagonisti della nostra vita? L'empowerment è quella forma mentis per cui appunto una persona si sente padrone di se stesso, delle proprie decisioni e protagonista della propria vita. In questo corso approfondiremo diversi tipi di empowerment, prestando particolare attenzione all'empowerment psicologico, quindi con quei costrutti da cui parte tutto questo, per cercare di prevenire quel senso di impotenza e di riappropriarci anche della nostra motivazione, della nostra spinta a fare, la nostra spinta a come fare e anche a cosa fare, proprio perché approfondiremo sia il cosa ma soprattutto il come, visto che a volte mancano i mezzi, non le idee. È ora quindi di riappropriarti del tuo potenziale in espresso. Io sono Stefano Luciani, psicologo clinico e formatore aziendale e sarò il tuo docente nel corso dell'empowerment. Ciao!